Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. E parliamo di un appuntamento ormai diventato imperdibile. Dall'anno scorso, possiamo dire, dell'estate barese. Sto parlando di Meraviglioso Modugno, l'evento che ha inaugurato il Medimex nelle precedenti edizioni, ma che dall'anno scorso è stato, diciamo, spostato a Polignano, in un teatro Petruzzelli come veniva, ma soprattutto ad agosto. Appuntamento quest'anno il 6 agosto, a vent'anni esatti dalla scomparsa di Domenico Modugno e ci saranno veramente tantissimi artisti che si esibiranno nella piazza di Polignano. Vi faccio qualche nome, Gino Paoli, Danilo Rea, Malika Iane, Marta Suitubi, Antonio Diodato, Rocco Ant e Renzo Rubino. Sono solo alcuni dei nomi che si esibiranno in questo meraviglioso omaggio a Domenico Modugno. Si esibiranno ovviamente reinterpretando i famosi brani, i brani più famosi della carriera di uno dei cantautori più importanti della storia della musica italiana. Tutto questo avverrà mercoledì 6 agosto a partire dalle 21.30 in piazza Aldomoro. L'ingresso è assolutamente gratuito, quindi davvero un evento imperdibile. Anche quest'anno nel corso della serata il comune di Polignano assegnerà il premio Città di Polignano ad una personalità del mondo e della cultura dello spettacolo che ha promosso un po' l'immagine di Polignano nell'Italia e nel mondo. Continueremo a parlare ovviamente di questo evento, però volevo segnalarlo visto che è una notizia abbastanza fresca. Quindi appuntamento il 6 agosto con meraviglioso Modugno a Polignano in piazza Aldomoro. E questo è davvero tutto per oggi, anzi no, io restituisco la linea alla TV, ringrazio per la regia di Telebari Federico Semplice, però noi continuiamo su Radio Bari, 88.8 radiobari.net con gli appuntamenti della settimana, questa settimana che è appena iniziata, quindi non potete assolutamente perderveli, ci risentiamo su Radio Bari, buona giornata a tutti, ciao!